Ci troviamo al quartiere Provvidenza, purtroppo notiamo che la spazzatura c'è sempre, anzi è aumentata, così come è aumentato il materiale in Ethernet, così come le case abbandonate sono rimaste aperte e piene di immondizia, ma queste case non dovevano essere chiuse e ripulite entro fine settembre e metà ottobre, cos'è accaduto? Allora è accaduto che l'assessore Cavaleri, perché io ho parlato con l'assessore Cavaleri, mi ha detto che stiamo provvedendo a chiudere le case, però come li stavano chiudendo queste case? Con la spazzatura dentro le aumentava i molti problemi, perché? Perché la spazzatura dentro che succede, chiudendo non va a evaporare e fa più danni alle persone, a tutti quelli che ci abitiamo. Comunque non è stato fatto nulla, qua la cosa sta peggiorando ancora di più, vediamo che l'Ethernet sta aumentando anche tutti i vari problemi che ci sono, giustamente il comune abbiamo detto, cerchiamo di prevedere dei problemi, però nessuno è una cosa, dormiente, il comune se ne sbatte, sembra al solito, è di tutto. Ma mi scusi, quindi volevano sigillare le case, farle sigillare ai lavoratori dei minicantieri con tutta la spazzatura dentro? Sì, sì, con la spazzatura dentro. E voi residenti avete bloccato giustamente i lavori? Noi abbiamo bloccato i lavori perché non è di giusto, perché si deve creare molto più danno sia alle persone che a tutti quelli che abitiamo in questo quartiere. E quindi dato che voi avete bloccato i lavori non hanno più fatto niente? Niente, si sono fatti soltanto dei lavori, diciamo un semplice manovalanza, per esempio mettere delle ringhiere nelle scale e qualche altra piccolezza delle cose. Ma l'adderattizzazione è stata fatta? Sì, l'adderattizzazione è stata fatta subito, questa qui possiamo dire che è stata fatta e l'ho seguita personalmente io. Però scusi la domanda, che senso ha derattizzare con la spazzatura per terra? Nulla, non ha nulla di senso, questo è zero totale. E per quanto riguarda le buche nella strada? Allora, le buche nelle strade riguardano che il comune non ha il materiale, dice che ha la catrama fredda, mettendo la catrama fredda con questa temperatura la catrama va a finire che si toglie. Dicono che appena ci sarà possibilità di avere catrama calda o di sostituire le piastrelle, lo faranno questo lavoro. Ma quando? Non si sarà, non si sa. Qua siamo nella traversa stretta vicino alla chiesa Provvidenza. La puzza, vi assicuro, è impressionante. Queste case quindi sono state murate, ma la spazzatura è rimasta? La spazzatura è dentro, come tu senti, si sente il proprio cattivo odore perché c'è ancora tutta la spazzatura dentro. Non c'è nulla di pulito. Hanno soltanto tolto il materiale che si trovava davanti, ma tutta la spazzatura è all'interno. Giustamente i ragazzi che hanno lavorato al mini-candieri non c'entrano nulla perché hanno avuto ordinanza di chiudere soltanto le case. Questo è il torto del comune perché c'era un'ordinanza prima di pulire tutte le case dalla spazzatura e poi fare tutti i lavori che si dovevano fare con il candiere e chiudere le porte. Ma ripeto, i ragazzi del mini-candiere non c'entrano nulla perché quelli dovevano fare il lavoro a quello che gli avevano detto. Qua è impressionante. Il comune ha un torto a 2.000 miliardi per cento. Non possiamo andare avanti così. Peggiora la situazione. Noi ci priviamo pure di portare bambini qua dai nonni perché la situazione è critica. Ci sono terniti. C'è di tutto e di più. Noi abbiamo pure preoccupazione a fare stare degli anziani qua perché la situazione è brutta. Tutto è rimasto per com'era. Niente viene tolto. Nessuno fa nulla. Tra l'altro in questo momento noi stiamo proprio parlando al lato il materiale in Eternit frantumato. Anche per noi è pericoloso. Pericoloso. Infatti anche noi stiamo respirando cose che non dovremmo perché la situazione peggiora sempre di più. Hanno tolto i castonetti. Li hanno messi là sotto che degli anziani devono fare strade, gradini proprio per andare a buttare la spazzatura. Anzi i disagi aumentano. Cioè qua sono più disagiati che altro. Però notiamo pure che la spazzatura aumenta. Quindi c'è chi continua a gettarla. C'è chi continua a gettare questa spazzatura che noi giustamente non capiamo da dove arriva. Perché mia mamma è anziana. Si fa 100 gradini per andare a buttare la spazzatura. Ci sono anziani pure disagiati. Non solo i bambini che abitano qua vicino. Cioè non possono giocare a pallone. È tutto bloccato. Ricordiamo che durante l'estate una bambina si è ferita giocando qui a causa dei vetri frantumati. Che è la signora che abita di fronte. Aveva la casa invasa dagli insetti. E in questi giorni tra l'altro con il caldo che ha fatto immagino che gli insetti sono aumentati. Sì sono aumentati infatti. È aumentato il brutto d'ora e tutto. Perché veramente siamo disagiati. Speriamo che qualcosa si muova al più presto. Grazie a tutti.